Tutto è iniziato con questo piccolino qui, Honor 50 Lite, che poi tanto piccolino non è, viste le dimensioni, ma va bene così, e sa per dirvi, prodotto decisamente interessante, al prezzo attuale soprattutto, parliamo di circa 249€, molto molto a fuoco con quello che vi offre, per poi passare a lui. Honor 50, dispositivo che trovate sotto i 500€ che si propone sul mercato come un ritorno di una vecchia Honor, almeno per quanto mi riguarda. E dico questo perché la fascia di prezzo in cui si va a posizionare questo dispositivo attualmente è quella più interessante, perché si riesce ad arrivare sempre al giusto equilibrio. E quindi oggi si torna ad Android, grazie ad Honor, tra l'altro anche sponsor di questo video, che mi ha chiesto semplicemente di rispondere a tutte le vostre domande, dubbi, su questo dispositivo, e ricordarvi che potete acquistarlo anche nei maggiori negozi di elettronica come MediaWorld, Unieuro ed Euronics a prezzi veramente interessanti. Poi piccola parentesi, giusto così, per tornare un po' indietro nel tempo e soprattutto, diciamo, giusta per i veterani del canale, ecco, ho anche accettato questa collaborazione perché sono particolarmente affezionato ad Honor, e per me questo video è anche un po' un salto indietro nel tempo, perché dovete sapere che Honor è stata tra le prime aziende a credere in questo canale, in questo progetto, e a collaborare con me per la recensione di qualche dispositivo, qualche prova, qualche progetto. Per esempio, in lontano 2018 parliamo, uno dei primi dispositivi che ho provato è stato Honor 10, veramente una figata pazzesca, vabbè, chiudiamo il discorso e andiamo dritti verso le domande. E qui ho scritto un po' di cose e partiamo subito con la prima, che arriva direttamente da Antonino. Grazie mille Antonino, grazie mille amico mio, perché mi hai un po' salvato, perché in moltissimi, soprattutto in direct, mi avete fatto proprio questa domanda, e nello specifico vi parlo di quelli che sono i problemi, i possibili problemi con applicazioni, Google, eccetera, eccetera. Quindi sotto questo punto di vista c'è abbastanza da dire, ma procediamo con ordine e partiamo proprio da Google. Partendo dalla compatibilità con le applicazioni Google, e quindi vi parlo di Google Play Store, YouTube, Chrome, eccetera, non ci sono assolutamente problemi. Ormai Honor è praticamente un brand a parte, quindi ritorna ad avere tutti i servizi Google essenziali, e quindi sotto questo punto di vista state tranquilli, tutto va come deve. Per quanto riguarda invece le app in generale, anche qui non ci sono assolutamente problemi. Ovviamente vi parlo di quelli che sono i miei test, di quelli che sono le mie esigenze, vi parlo per esempio di Netflix, FeedLive, l'applicazione che utilizzo per le news, eccetera, eccetera, social come Twitter, Telegram, Instagram, tutto va come deve, e se vogliamo poi allargare ancora di più il discorso anche ai giochi, vi dico che la scheda tecnica sa dare le sue soddisfazioni. In questo caso abbiamo infatti uno Snapdragon 778, sopportato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che spingono questo, diciamo, dispositivo a prestazioni molto interessanti. L'ho testato con BotWord e Panball, gioco che mi sta facendo letteralmente impazzire scaricatolo, ragazzi, perché è veramente una figata, e anche qui nessun problema, né di surriscaldamento, anzi rimane sempre a temperature veramente ottime, né di lag improvvisi, eccetera. Quindi, anche sotto questo punto di vista, promosso. Andando avanti, poi, abbiamo delle domande che si vanno a concentrare principalmente sulla fotocamera. Per esempio, da questa parte, Hent mi fa la domanda, per esempio, come sono i video registrati con poca luce, oppure ancora, mi piacerebbe un approfondimento sulla fotocamera, come sono le foto, eccetera. Ebbene, anche qui, diciamo, vedo abbastanza curiosità da parte vostra, e, diciamo, rispondiamo nel migliore dei modi, facendo un iniziale approfondimento sulla scheda tecnica, comunque su quelli che sono i dati di questi sensori che abbiamo nel posteriore. Ebbene, cosa c'è da dire in questo caso? Beh, c'è da dire che abbiamo una 108 megapixel f1.9, una 8 megapixel f2.2, una 2 megapixel f2.4, una 2 megapixel f2.4, mentre nella parte anteriore abbiamo una 32 megapixel f2.2, il che, in linea generale, si traduce in foto ottime e video buoni, seppur con qualche ma, per quanto riguarda, diciamo, poca luminosità, e qualche chicca software che riesce a dare le sue soddisfazioni. Allora, parlando delle foto, come potete vedere, non ci sono grossi problemi. Sono assolutamente in linea con la fascia di prezzo. Il sensore da 108 megapixel si comporta molto bene e con le giuste accortezze si riescono a scattare foto con uno sfocato naturale molto piacevole. La gestione dei colori è ottima, lo zoom anche, l'unica cosa è forse l'ultra grandangolare che presenta un po' di difetti nei lati, ma tutto assolutamente superabile. Mentre per quanto riguarda i video, abbiamo una qualità massima che arriva a 4K 60fps con una buona stabilizzazione e anche qui, in linea generale, una qualità assolutamente in linea con il prezzo. Lo sapete, io sono particolarmente esigente sotto questo punto di vista ed è anche per questo che sono curiosissimo e mi piacerebbe veramente tantissimo provare Honor Magic 4 Pro con i suoi video in log e tutte quelle chicche. È veramente super interessante. Ma vabbè, vedremo, speriamo. Non fate vedere ad Honor che vi interessa una cosa del genere. Sono veramente super curioso. Mi affido a voi. Detto questo, comunque andando avanti, poi abbiamo un'altra funzione molto interessante come il multi-video che vi permette di cambiare inquadratura con pochi click oppure registrare con due sensori contemporaneamente e magari realizzare un video un po' diverso dal solito. Sicuramente il video sarà molto più diretto e avrete sicuramente capito molto di più rispetto a quella che è stata l'ultima, diciamo, spiegazione. Una feature molto interessante. Andando avanti, poi, abbiamo altre domande molto fighe come per esempio com'è il software, lato personalizzazione, prestazioni e autonomia poi ancora batteria, durata dalla batteria tutte, diciamo, domande sulla batteria e sul software. Allora, anche qui bisogna procedere un attimino con ordine e direi di partire proprio dalla, diciamo, personalizzazione. Voi lo sapete, io non sono un amante dell'interfaccia Honor mi risulta sempre un attimino pesante però ci sono due cose, secondo me, da analizzare e da sottolineare. La prima è che Honor sta lavorando molto bene per quanto riguarda le personalizzazioni abbiamo infatti delle impostazioni completamente dedicate a questo aspetto con la possibilità di cambiare temi, icon pack, wallpaper personalizzare l'always on display, eccetera quindi ottimo sotto questo punto di vista mi raccomando, Honor, segui questa strada e poi c'è da dire che Android è bello proprio perché è aperto quindi ci basta un launcher e risolviamo praticamente tutto per esempio Nova Launcher è completamente compatibile, gratuito e ci permette di fare un'infinità di cose quindi anche qui per me si lascia andare, diciamo, come cosa abbastanza facilmente poi è tutto un po' soggettivo io vi ho detto la mia, lo sapete, alla fine tendo sempre a personalizzare lo smartphone quindi ci può assolutamente stare mentre per quanto riguarda la batteria non me l'aspettavo e l'avete visto anche sul Telegram perché qui sotto abbiamo una semplicissima batteria da 4300 mAh ma va veramente molto molto bene vi riesce a portare a sera senza alcun problema sia con un utilizzo stress 10% circa che standardizzato con un 25% a volte anche 30% senza contare poi la ricarica super veloce 100% in 40 minuti grazie anche all'alimentatore che trovate sempre in confezione con anche una piccola cover da 66 W per finire poi abbiamo altre domande che si concentrano per esempio sul display per esempio da questa parte abbiamo come siamo messi a luminosità schermo bene, qui ragazzi non c'è veramente nulla da dire Full HD Plus da 6,57 pollici OLED con tecnologia 120 Hz ottimo per la visione di film, serie TV e devo dire che c'è un certo equilibrio e per il prezzo forse anche meglio rispetto a molti sul mercato anche se c'è un piccolo problemino meglio l'audio che è mono e non stereo diciamo che mi è mancato certo la qualità anche qui dello speaker è buona anzi direi anche ottima però un piccolo particolare che mi sarebbe piaciuto arrivati a questo punto però vi ho detto praticamente tutto risposto a un po' delle vostre domande a tutte quelle che mi avete fatto in linea generale si concentravano un po' su questi aspetti e voglio concludere semplicemente col dirvi che è un dispositivo che mi è piaciuto voi lo sapete io tendo a parlarvi sempre di quei dispositivi che mi convincono al 100% e questo devo dire che mi ha dato delle grosse soddisfazioni anche lato estetico risulta molto molto piacevole e queste curve, questo design questa diciamo questo diciamo frame bello sottile mi piace, mi piace veramente tanto tra l'altro vi consiglio in fase di acquisto di optare magari per la colorazione verde secondo me è veramente fighissima comunque molto piacevole da tenere in mano è veramente ottimo piccola parentesi tra l'altro qui abbiamo il riconoscimento di protodigitale sotto a display non l'ho analizzato non me l'avete chiesto però vi dico che funziona anche qui bene detto questo ragazzi poco da dire grazie mille Honor grazie mille a voi per tutte le domande grazie mille a voi per tutto il supporto perché anche grazie a voi se possiamo portare questi video online questi progetti e ho in mente belle cose quindi mi affido a voi detto questo un maggiore abbraccio da giù è tutto ciao a tutti grazie mille a voi